De congestionare gli ospedali e di pronto soccorso dando supporto ai medici di base grazie alla tecnologia è l'obiettivo del progetto telemedicina territorio insieme contro il covid finanziato dalla Rotary International con la collaborazione dei club di Marche, Umbre, Abruzzo e Molise e che nella nostra regione ha visto l'adesione dei primi 44 medici di medicina generale che potranno seguire a distanza tramite un'app tutti quei pazienti covid che da casa in isolamento dalle RSA o da altre strutture necessitano di monitoraggio continuo offrendo così al sistema sanitario regionale una preziosa opportunità di assistenza territoriale ed alleggerendo la pressione sui pronto soccorso e sugli ospedali. Reputiamo che possa essere utile non solo a intercettare tutti quei bisogni che purtroppo nella distanza possono essere diciamo accolti meglio evitando quelle criticità quindi sia il sovrapportamento degli ospedali ma anche di consentire anche i medici di medicina generale di poter avere quel rapporto costante che nei propri assistiti senza dover andare diciamo anche a mettere la propria condizione a rischio come era successo nella prima ondata. Il progetto è partito con un investimento iniziale costituito da un contributo messo a disposizione dai nostri club del distretto che hanno aderito al progetto che sono 38. Questo contributo di 42.500 euro è stato poi integrato ulteriormente da una cifra messa a disposizione dal distretto e raddoppiata poi addirittura dalla fondazione Rotary Foundation. Quindi adesso abbiamo un investimento complessivo di oltre 70.000 euro. Il progetto che nasce da un'analisi di quelle che sono state le grosse difficoltà della prima ondata della pandemia nella gestione dei pazienti non ha però come unico fine quello di assistere in maniera continuativa solamente i malati covid ma mira ad entrare a far parte della cultura sanitaria restando anche in futuro come aiuto nel monitoraggio di malati cronici. Un sistema che consente ai medici di fare televisite, ricevere messaggi, fare prescrizioni, tutto in remoto. E l'altro sistema è stato quello di dare a disposizione delle RSA e degli assistiti dei saturimetri, dei termometri in maniera tale che i pazienti possano monitorarsi e mandare i dati al medico il quale riceve i dati con la frequenza che vuole, la tipologia di informazioni, di dati vitali che vuole e c'è anche un sistema integrato di allerte, di avvisi che arrivano al medico ogni qualvolta il paziente immette un dato che esce da range di valori accettabili che il medico stesso ha stabilito per ogni paziente.